segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te esito numero uno si chiede di abrogare le disposizioni in materia di incandidabilità ineleggibilità e decadenza automatica per cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanne per reati gravi con l'eventuale abrogazione saranno i magistrati a valutare caso per caso se applicare l'interdizione dagli uffici pubblici ecco allora a sostenere gli argomenti le tesi del sì c'è roberto calderoli che figura ben conosciuta lo vedete lo vedete non 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 è in pigiama come potrebbe come potrebbe sembrare è in una in una foggia del tutto particolare perché in realtà lo dico lo dico per tutti calderoli lui ha una maglietta che testimonia non la non la inquadreremo per motivi di par condicio diciamo però ha una maglietta che ricorda che è in sciopero della fame per una giustizia è giusta il che penso coinvolga anche la scarsa informazione che c'è stata fino a questo momento sui referendum di domenica roberto calderoli esporrà le tesi e del sì e le tesi del no a questo primo quesito quella è l'abolizione della di quella che è famosa come legge severino per per l'autrice quella che fu la ministra della giustizia paola severino e anche per il principale degli esponenti politici che vi incorsero a loro danno ovviamente silvio berlusconi a difendere le tesi del no alla abrogazione all'abolizione della legge severino c'è vittoria baldino che è capogruppo del movimento 5 stelle alla commissione affari costituzionali della camera e allora come vedremo come faremo per tutti gli altri anche quesiti sentiamo prima le tesi del sì da roberto calderoli e poi sentiremo quelle del no da vittoria baldino a questo primo quesito buonasera dottor mentana buonasera ai telespettatori vede che ho ragione di mettere la maglietta e fare lo sciopero della fame perché addirittura ma avete censurato anche la maglietta non c'è scritto neanche di votare di sì quindi avrebbe potuto essere tranquillamente inquadrata se si mette in piedi la vediamo se si mette in piedi la vediamo io si metta in piedi la vediamo un attimo poi si risiede purtroppo non ho neanche ecco ecco perfetto guarda facciamola vedervi sciopero della fame per una giustizia ci mancherebbe altro che la censuriamo calderoli e non l'ho mai censurata bravissimo bravissimo mentana allora questo lo mettiamo diciamo fuori sacco rispetto ai tempi ai tempi della discussione sul sì e sul no allora perché bisogna abolire la legge severino perché la legge severino contiene un principio secondo me di incostituzionalità e sicuramente non di una cosa giusta per cui gli amministratori che siano essi comunali provinciali e regionali quindi compresi anche i sindaci e governatori delle regioni possono essere sospesi nel caso subiscano una condanna di primo grado la nostra costituzione prevede che nessun imputato può essere considerato colpevole se non con una sentenza ingiudicato e quindi abbiamo un unicum che è relativo ai soli amministratori che vengono sospesi per 18 mesi nel caso si dovessero svolgere altre elezioni non possono ricandidarsi e molte volte spesso vengono assolti poi in secondo e in terzo grado quindi che la una legge prevede un qualcosa che non sia l'esito finale di un giudizio a me sembra una cosa inverosimile votandosi si abroga questa parte così come si abroga la parte relativa alla incandidabilità ineleggibilità e decadenza dei deputati dei senatori e membri del parlamento europeo in presenza di una condanna ingiudicato in questo caso però quello che viene detto secondo cui corrotti mafiosi eccetera ovvero quelli che compiono dei reati contro la pubblica amministrazione si potrebbero ricandidare e oppure non decadrebbero è assolutamente falso frutto di fake news di una scarsa conoscenza della materia perché tutti i reati della severino cioè la corruzione la concussione l'istigazione alla corruzione la concussione e addirittura la indebita promessa o d'azione di utilità per il proprio tornaconto sono puniti in base all'articolo 317 bis del codice penale che prevede la impossibilità la il venir meno a vita di tutti i diritti civili e quindi la possibilità di essere sia elettorato attivo che elettorato passivo e in caso di condanna anche la decadenza così come non esiste al mondo che i mafiosi potranno tornare a candidarsi perché per ogni reato superiore che prevede una pena superiore ai cinque anni è prevista l'interdizione a vita dei pubblici uffici quindi di fatto non cambia alcunché per i deputati e senatori cambia molto in meglio invece rispetto agli amministratori vittoria baldino perché allora invece bisogna votare no a questo primo quesito referendario bisogna votare no a questo quesito che vuole abolire tutta la legge severino non soltanto quella parte relativa agli amministratori locali condannati in primo grado ma anche a quelli condannati in via definitiva per reati gravi o gravissimi per i quali senza la severino non si applicherebbe l'automatismo dell'incandidabilità quindi noi ci potremmo ritrovare invece sì mi dispiace non sono d'accordo con quello che ha detto il senatore calderoli dei condannati per mafia e per altri reati gravissimi in parlamento nel parlamento europeo ricoprire incarichi di governo incarichi regionali o locali questa norma rappresenta un presidio di legalità per il nostro ordinamento e noi la difendiamo perché riteniamo che l'automatismo sia sacrosanto proprio perché all'epoca dell'approvazione della legge severino si ritenne di non gravare sull'autorità giudiziaria di applicare la pena accessoria quindi di valutare caso per caso a seguito della condanna anche la possibilità della candidabilità a cariche importantissime cariche elettive importantissime di soggetti condannati per reati gravi o gravissimi la norma che citava sulla sulla sospensione degli amministratori locali è una norma che già preesisteva alla legge severino ed è una norma che deriva dalla normativa antimafia del 1990 e in un periodo in cui in un momento in cui noi stiamo ricordando il trentennale delle stragi di mafia non ci possiamo assolutamente permettere di fare dei passi indietro rispetto alla legalità e alla tutela delle cariche elettive pubbliche nel nostro paese tanto più ora che stiamo affrontando una stagione di investimenti pubblici importantissima e quindi dobbiamo fare in modo che le cariche elettive siano ricoperte da gente al di sopra di ogni sospetto che dice come controbatte alle argomentazioni di vittoria baldino calderoli mentana io le dico una cosa se ha la possibilità prenda un qualunque computer cerchi l'articolo 317 bis del codice penale ritroverà quello che l'ho appena detto ovvero tutti coloro che commettono e vengono condannati per reati contro la pubblica amministrazione quindi peculato concussione corruzione istigazione alla corruzione istigazione corruzione degli organi giudiziari perfino la induzione falsa a dare o a promettere delle utilità sono sempre perché viene contenuta nella pena principale sono sempre unite all'interdizione perpetua dai pubblici uffici quindi quello che determina per sei anni la severino nel caso di questi reati è per tutti così non è una pena accessoria è compresa nella pena principale la mafia reato che viene punito con più di cinque anni di carcere prevede sempre l'interdizione perpetua ai pubblici uffici lei se lo vada a leggere e poi io dico un articolo del codice penale altri dicono delle idee se uno lo legge poi ritrova la verità in quello che ho detto ce l'ho davanti posso leggerlo ma sarebbe non sarebbe facile visto che ovviamente cita cita gli articoli no comunque la condanna per i reati di quegli articoli 314 317 318 319 319 bis 319 ter 319 quater primo com 320 21 22 22 bis 346 bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici l'incapacità in perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio non di meno se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323 bis primo com la condanna importa l'interdizione il divieto temporaneo per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni può bastare cioè i sei anni dalla legge severino quindi non cambia assolutamente nulla questo nel caso di tenuità del reato e di una condanna inferiore ai due anni hanno da cinque a sette di interdizione tutti gli altri quando c'è reato pieno hanno l'interdizione perpetua questo dice calderoli il catalogo della la legge severino prevede un catalogo molto codice penale la legge severino prevede un catalogo molto ampio di reati e delitti che prevedono la impossibilità di candidarsi e di ricoprire cariche di governo e allora a questo punto dovremmo leggere anche l'articolo 51 del codice di procedura penale per capire quali quali sono i reati compresi e tutti gli altri reati previsti dalla legge dagli articoli molto lunghi e complessi della legge severino che potremmo anche leggere ma soprattutto per quanto riguarda l'articolo 11 che citava il senatore che citano i fautori del sì quello che riguarda la sospensione degli amministratori locali è vero che prevede una condanna non definitiva una condanna di primo grado ma sono condanne per reati gravissimi reati gravissimi che riguardano proprio la appartenenza ad associazioni criminali di stampo mafioso comunque la commissione di dilitti di cui all'articolo 416 bis e seguenti quindi io da cittadina sono molto più sicura sapendo che esiste una norma che mi garantisce che un soggetto condannato anche in primo grado per reati di mafia non si possa candidare o comunque venga sospeso dall'incarico di amministratore locale di sindaco di consigliere regionale di consigliere provinciale del mio paese però io capisco che il senatore calderoli ride io non rido anche perché oggi stesso è stato arrestato un soggetto candidato a palermo per le liste sostenute dal senatore calderoli quindi io se fossi lui non riderei anche perché credo che i cittadini di palermo non ridano affatto beh vediamo di intenderci questo ovviamente è il riferimento all'arresto io non so a cosa si riferisca lo spiego io ai telespettatori il riferimento dell'onorevole Baldino è all'arresto del candidato alle elezioni comunali di palermo polizzi di Forza Italia che è stato condannato proprio no che è stato arrestato con l'accusa di avere in realtà scambiato promesse in cambio di aiuto alle elezioni con i costruttori Sansone che sono considerati evidentemente dalla magistratura come mafiosi addirittura sono coloro la famiglia che ospitò Totorino a parte della sua latitanza stiamo però parlando di un arresto che è stato compiuto oggi che deve passare ovviamente dalle autorità di garanzia per essere confermato e comunque qui inizia no stiamo parlando dell'etica che devono avere che deve avere chi decide di ricoprire incarichi pubblici di scambiare No, è stato fatto un caso specifico Baldino ha fatto un caso specifico sentiamo Baldino, lei mi ha accusato lei mi ha accusato di avere nella mia lista una persona che è stata arrestata bene ha fatto il dottor Mentana a chiarire che non è del mio partito ma è di un altro partito mi auguro che tutto si concluda nei migliori dei modi ma io continuo a pensarla in maniera garantista cioè non esiste come nel caso del sindaco di Loggi Ugetti il caso di essere stato sospeso per un bando di gara presunto irregolare essere incarcerato e aver perso per sempre la possibilità di fare il sindaco aver interrotto una carriera politica, fare il carcere, rovinato una famiglia e la sua testimonianza dimostra che certe cose non devono accadere quando poi viene assolto in secondo grado in appello per poi vedere la procura che ricorre e la Cassazione che rinvia per un ulteriore giudizio quando si deve prendere una decisione bisogna essere certi che ci torneremo di fronte a un colpevole non basta una presunzione di colpevolezza io sono per la presunzione di innocenza finché non c'è una sentenza in giudicato allora rispetto a questo in dubbio pro Reo Baldino ma allora intanto il soggetto arrestato fa parte della coalizione sostenuta anche dal partito del senatore quindi questo lo dobbiamo dire che sostiene il candidato sindaco Ragazzi però qui entriamo in una cosa diversa perché si vota a Palermo e entriamo nella campagna elettorale diciamo che questo è un esempio che può riguardare qualunque forza politica lei ha ricordato bene e l'ho dovuto fare anch'io per correttezza professionale che cosa è successo però diciamo un caso X in una competizione elettorale un candidato viene arrestato a quattro giorni dal voto ecco, così la ripuliamo da tutte le... tanto l'abbiamo già detto, è inutile che torniamo su... no, no, era solo una precisazione per rispondere a quello che aveva detto Calderoni il tema riguarda proprio l'etica se qui non entriamo nell'ottica di rispettare l'articolo 54 della Costituzione e cerchiamo di fare dei passi indietro rispetto a quella normativa che ripeto parte dagli anni delle stragi del 1990 la normativa antimafia che ha previsto quella norma di cui parla Calderoni eh sì, della mafia, le solite storie no, 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 Calderoni, Calderoni, parlate uno per volta mi scusi, la mafia è una cosa seria io vengo da Palermo non sono solite storie e minimizzare la mafia purtroppo è una malattia del nostro paese non bisogna assolutamente arrivare a minimizzare o a ridicolizzare chi assume seriamente il tema del contrasto alle mafie e questa è una normativa che si pone a presidio di legalità delle amministrazioni pubbliche e noi la difendiamo per questo riteniamo che si debba votare assolutamente no a questo quesito Calderoni ripeto perché io faccio il medico e non l'avvocato mentre invece l'onorevole Baldino dovrebbe essere un avvocato se le è noto che per una pena detentiva superiore ai 5 anni quale quello del reato di cui lei stava parlando che io considero molto seriamente sia prevista in automatica la estinzione dei diritti civili e quindi la cancellazione perpetua di questa persona dà la possibilità di essere candidato e anche di votare più di così è scritto nel codice penale posso dirla così Calderoni secondo lei esiste già nel codice penale tutto ciò che permette di attuare quello che dice la Severino senza bisogno della Severino assolutamente sì così la mettiamo nella maniera più chiara abolendo però quella parte relativa agli amministratori che invece è una cosa ingiusta e incostituzionale e lei fa il caso oggetti l'ex sindaco di Lodi tutti ci sono lo stesso livello tolto di mezzo diciamo dalla politica per una condanna che poi è stata rovesciata in appello sì ma è proprio quella norma quella norma che quella norma lì che lei insomma il caso oggetti che lei cita è una norma che la Severino ha trasposto dalla normativa del 1990 dalla legge antimafia i reati di corruzione i reati contro la pubblica amministrazione sono considerati dai magistrati antimafia come dei reati spia purtroppo della presenza della criminalità organizzata e per questo vengono puniti così severamente e per questo è necessario che chi sia condannato anche in primo grado per i reati previsti dalla Severino dell'articolo 11 che lei citava che non riguardano la mafia ma essendo reati spia debbano essere sospesi dall'incarico perché è una norma che è un presidio di legalità per le amministrazioni pubbliche quindi per i diritti dei cittadini e per il bene pubblico che questi dovrebbero amministrare e governare Calderoli Mentana scusi ma vogliamo riportare sul pianeta Terra il caso il povero Ugetti è stato messo in galera e sospeso per una piscina come diceva lei per un appalto di 5.000 euro sono questi i reati che fanno da spia la mafia per me sono degli episodi di mala giustizia punto e stop e con quel nostro referendum impediamo la possibilità che casi del genere possano ripetersi io ne ho in casa di persone che si sono dimesse spontaneamente perché non c'era ancora una sentenza ingiudicata da membri del governo sottosegretari dimessi e che poi sono stati assolti Maldino fare politica è una cosa di cui bisogna avere responsabilità ma sicuramente uno non può pagare perché fa politica no con questo referendum non si non si impedisce il verificarsi di casi simili ma si abroga tutta la legge Severino non si può prendere come esempio un singolo caso di un sindaco perché rientrerebbero tutti quei casi che citavamo prima e noi riteniamo che sia per favore Calderoli facciamo finire Baldino poi ancora la parola a lei noi riteniamo proprio a tutela dei cittadini che invece mantenere la disciplina vigente sia importante e sia appunto un presidio di legalità per il nostro paese in questo momento storico così delicato ancora Calderoli se vuole se no volto un pochino guardi io io resterò sempre del parere del sì e la Baldino sempre a noi quindi non ci convinceremo a vicenda io sono convinto che il primo senso di responsabilità deve venire dai partiti che la gente che ha avuto dei problemi del genere non venga candidata comunque c'è anche una norma di trasparenza che prevede che per tutti i candidati anche per i consigli comunali sopra i 15.000 abitanti debba essere pubblicato l'estratto del casellario giudiziario e quindi il cittadino ha la possibilità di verificare chi è che va a votare sicuramente non si potranno candidare anche una volta approvato il nostro quesito referendario i corrotti i concussi gli stigatori alla corruzione o altri tipi di reati comunque contro la pubblica amministrazione e sicuramente non i reati grave come quelli citati quelli sono interdetti a vita dalla vita pubblica io sono d'accordo con quello dice il senatore Calderoli ma noi poi le cose le mettiamo anche in pratica perché siamo stati i primi a depositare alla commissione antimafia le nostre liste elettorali lo abbiamo fatto più di una settimana fa siamo stati i primi e non mi risulta che prima di allora la Lega abbia come sempre ma non solo la Lega anche gli altri partiti abbiano depositato le liste per il controllo ricordo che la commissione antimafia fa dei controlli sulle liste non soltanto relativi ai reati di mafia ma tutti i reati previsti dalla Severino e consegnando prima le liste depositando prima le liste si potrebbe impedire di candidare quelle persone che sono considerate impresentabili però questo non c'entra niente con il referendum no però siccome il senatore Calderoli diceva è necessario che i partiti non candidino i soggetti condannati o comunque indagati per reati gravi è necessario anche che depositino le liste alla commissione antimafia in largo anticipo in modo da poter fare i controlli è un argomento sicuramente che ha fatto bene a portare così come la maglietta di Calderoli stiamo però nell'ultimissima ecco è l'ultimo un minuto per uno facciamo così ora lei Calderoli si rivolge agli italiani che la stanno ascoltando italiani comunque telespettatori che la stanno ascoltando e gli dice in un minuto perché bisogna votare sì è la stessa cosa per il no fra la baltina la legge severino il decreto severino nasce nel 2012 quindi a dieci anni tutti l'han criticata a partire dai partiti della sinistra e soprattutto dai sindaci della sinistra che hanno già dichiarato come Gori e altri il sì al quesito della legge severino e dieci anni non sono stati sufficienti per cambiare la legge io dico aboliamola a questo punto perché tanto non serve a niente e i dati rispetto alla corruzione non sono praticamente cambiati abbiamo migliorato di dieci posizioni ma eravamo ben in basso nella classifica esclusivamente perché per via del covid si sono commessi meno reati e si sono fatti meno processi quindi aboliamo una cosa ingiusta a favore degli amministratori e nel rispetto di quei cittadini che quegli amministratori hanno votato e sono visti decadere quando non c'era un motivo perché poi dopo è stato assolto Baldino bisogna votare no perché questa legge rappresenta una garanzia perché le istituzioni all'interno delle istituzioni risiedano soggetti al di sopra di ogni sospetto è una garanzia una tutela per i cittadini onesti sia per gli elettori onesti ma anche per i candidati onesti ed è necessario che venga mantenuto questo automatismo previsto dalla legge Severino è necessario anche che i reati spia vengano puniti anche in maniera anticipatoria con la previsione della sospensione dei soggetti condannati anche in primo grado da loro incarichi pubblici perché le istituzioni devono rimanere come noi abbiamo sempre detto pulite noi ci siamo battuti sin dall'inizio per un Parlamento pulito e continueremo a farlo quindi è necessario votare no allora grazie a tutte e due ultimi dieci secondi però li do a Calderoli è finito lo sciopero della fame sì no no vado avanti tranquillamente fino a domenica perché io faccio l'uomo sandwich andando in giro sensibilizzo già parlando di sandwich le dovrebbe venire fame già parlando di sandwich le dovrebbe venire fame comunque grazie a tutte e due benissimo così dopo la pubblicità passiamo al secondo quesito